L'Ordine dei Medici della provincia di Nura ha sospeso dalla professione la dottoressa Alba Veroni Capudu, la professionista sotto inchiesta da parte della Procura della Repubblica del Tribunale dell'Anusei per reatti di omicidio colposo, lesioni personali, circonvenzione incapace e truffa continuata. Un'inchiesta partita dopo la trasmissione delle Ienemes in onda il 19 novembre 2017 su Italia 1, in cui la dottoressa di Testenia sosteneva di poter curare i tumori con gli ultrasuoni. Il provvedimento disciplinare dell'Ordine dei Medici della provincia di Nura arriva dopo che il GIP del Tribunale dell'Anusei, Francesco Alterio, ha disposto all'interdizione della professione medica per un anno, su richiesta del Pubblico Ministero Gualtiero Battisti, ma ha rigettato la richiesta di arresti domiciliari. Pertanto la dottoressa Pudu non potrà esercitare la sua professione nell'ambulatorio privato di Testenia, né quella che esercitava da anni di guardia medica a perdas de fugo. La sospensione dell'Ordine dei Medici è temporanea in attesa del sviluppo e dell'inchiesta penale, martedì scorso nell'interrogatorio di garanzia la dottoressa Pudu ha negato ogni addebito riservandosi la facoltà di presentare a breve una memoria difensiva.